Oggi a radiobue.it vi presentiamo un programma di eventi che si chiama donne matematica al dipartimento di matematica Tullio Levi Civita dell'Università di Padova a parlarne qui con noi ci sono due professoresse di matematica un po' il terrore dei liceali però sono veramente gentilissimi la professoressa Giulia Treo e la professoressa Paola Manucci benvenuta a radiobue.it grazie grazie buongiorno a tutti allora l'iniziativa è un programma ricco di eventi ci sono c'è una mostra fotografica seminari tavole rotonde addirittura uno spettacolo però partiamo un po dall'inizio l'iniziativa nasce a berlino nel 2016 dopo la settima conferenza europea dei matematici professoressa Treo perché hanno scelto di continuare questa iniziativa di concretizzarla con una mostra fotografica che è dedicata a 13 donne contemporanee e matematiche beh l'idea principale è che nell'immaginario diciamo soprattutto dei giovani o delle persone non addette ai lavori la matematica è al di là del mondo della scuola è un mondo di uomini e mancano le figure di riferimento diciamo come modelli di scienziate questo in generale vale per tutte le discipline scientifiche e anche per la matematica naturalmente ci sono delle scienziate che sono molto famose inutile neanche ricordare i nomi di Rita Levi Montalcini o Ilaria Capua o anche nell'ambito della matematica si possono citare delle matematiche famose ma quello che manca sono dei modelli di riferimento diciamo di donne che lavorano nell'ambito della ricerca matematica tutti i giorni a livello normale normalità niente di straordinario l'obiettivo di questa mostra che illustra appunto un po le storie di 13 donne che attualmente lavorano diversi paesi europei si occupano di ricerca in vari ambiti della matematica vuole proprio mostrare che le donne che fanno matematica ci sono esistono non è un'utopia esistono molte di loro conciliano famiglia altri interessi con il lavoro di ricerca e quindi l'obiettivo è proprio quello di divulgare questa questa idea questo pensiero le donne ci sono e che anche le carriere diciamo di carattere accademico sono accessibili alle donne perché quello che accade che spesso le ragazze stesse a un certo punto si trovano di fronte a scelte di vita magari sono un po' bloccate magari vedendo com'è la situazione oggi e quindi dicono magari cambio percorso vado a studiare qualcos'altro ecco esatto e allora la mostra viene inaugurata il 7 marzo e ci sarà anche il coro corollario che l'abbiamo intervistato infatti trovate nel nostro sito la l'intervista al coro e professoressa manucci volevo chiedere ci sono anche due giornate speciali diciamo così di approfondimento il 9 marzo il 16 marzo dove ci saranno i seminari e le tavole rotonde ci puoi raccontare un po' di cosa si parlerà in questi seminari in tavole rotonde incontri va bene allora questi due venerdì venerdì pomeriggi sono strutturati nella stessa maniera sia il venerdì 9 che il venerdì 16 e si inizia con dei tre seminari divulgativi molto brevi in totale tutti e tre seminari dureranno un'ora poi ci sarà una tavola rotonda alle tre e mezzo anche quella di un'oretta circa e poi tutti e tutti e due i pomeriggi e questi eventi si concluderanno alle 5 con lo spettacolo di andrea pennacchi accanto al dipartimento nell'aula magna del polo vallisneri allora la prima giornata quella del venerdì 9 marzo è più dedicata ai problemi legati diciamo delle donne all'università quindi quindi le donne che intraprendono una carriera universitaria in ambito accademico diciamo mentre la seconda giornata quella del sedicino di marzo è più dedicata per esempio alle studentesse agli studenti delle scuole superiori anche ai professori delle scuole superiori quindi un po anche il passaggio per esempio dalle scuole superiori alla scelta delle facoltà scientifiche e anche e siccome noi siamo evento satellite dei giochi matema dei delle olimpiadi matematiche femminili che si terranno aprile a firenze nel 2018 cioè tra un mese tra poco allora abbiamo inserito anche proprio il parlare proprio della presenza delle ragazze nei giochi olimpici matematici perché la presenza è sempre molto bassa ci sono poche donne che partecipano e quindi abbiamo anche invitato per questa seconda giornata ragazze che hanno collaborato che hanno fatto giochi matematici professoresse che si occupano proprio di questo delle scuole superiori la prima giornata invece quella del 9 marzo abbiamo invitato invece accademiche quindi professoresse universitarie un po che vengono da tutta europa ho letto non solo italiani non solo italiani sarà il presidente dell'unione matematica italiana poi ci sarà la giornalista roberta fulci di radio 3 scienza che coordinerà il dibattito poi abbiamo invitato tre professoresse una spagnola una francese e una tedesca che sono loro molto impegnate nei loro paesi anche a livello nazionale su queste cose che riguardano le donne la matematica e quindi ci diranno le loro statistiche i loro dati anche come quei paesi hanno cercano di affrontare questo problema sì e poi le tre giorni le due giornate scusate si concludono con uno spettacolo scritto da andrea pennacchi su una matematica particolare che non tutti conoscono io personalmente sono andata a cercarlo su google chi fosse potete raccontarci un po chi era emmino netter è una grande matematica adesso già usare questa espressione può portare diciamo un po' a un freddimento perché se diciamo una grande matematica la collochiamo all'interno delle grandi donne matematiche che nella storia stanno sulle dita di una mano e quindi riduce un po' la sua grandezza dal punto di vista matematico è una grande matematica cioè un grande matematico donna ecco che ha avuto dei risultati importanti sia per quanto riguarda l'algebra che per quanto riguarda la fisica matematica quelle discipline che noi oggi chiamiamo così ma che al tempo non erano etichettate in questo modo e ha una storia comune a molti scienziati che sono vissuti in germania ebrei tra le due guerre quindi a un certo punto ha dovuto andarsene emigrare negli stati uniti e naturalmente ha avuto anche ha dovuto affrontare molte difficoltà nel poter insegnare all'università quindi le sono stati affidati degli incarichi ma a volte non non con il suo nome e così via e anche una volta arrivata negli stati uniti comunque ha avuto degli incarichi non particolarmente prestigiosi ecco a livello scientifico ma ha potuto insegnare all'università ma probabilmente non con la stessa visibilità che ha un livello più basso altri colleghi lo spettacolo è alle 17 e 30 se non sbaglio alle 17 17 ecco l'ingresso è gratuito infatti è una bellissima iniziativa e se volete prenotare comunque nel nostro sito all'articolo abbiamo messo la mail sono fino a due posti giusto fino a due posti a mail sì sì e poi ci saranno magari all'ultimo chi non era sicuro così ci sono dei posti assegnati quindi se uno si dimentica anche la mail può provare a presentarsi non è detto tentarlo nuoce ecco infatti sì una domanda un po più personale che volevo farvi professoresse e vi è mai capitato nella vostra vita da docenti dover incoraggiare una ragazza una studentessa magari talentuosa ma che magari ha trovato delle difficoltà la prima difficoltà si è fermata però ci credavate voi beh sì a me sì a me sì diciamo io adesso da alcuni anni insegno analisi 1 al corso di laurea in matematica e forse è stata una delle cose che mi ha portata un po anche a interessarmi a questo tipo di problemi perché ho notato che le ragazze spesso sono molto più insicure o hanno un modo di porsi molto più insicuro nei confronti della io vedo la matematica insomma ecco ma può darsi che sia che riguardi anche altre cose e quindi anche nelle lezioni non dico tutti i giorni ma quasi mi capita di dire tirate fuori questo coraggio buttatevi un po di più cosa che spesso ai ragazzi non serve dire magari una parolina così e poi vabbè anche con delle studentesse invece che hanno intrapreso magari la strada del dottorato così con una in particolare a un certo punto lei ha fatto una scelta di dedicarsi di più alla famiglia piuttosto che a stare in un ambiente come oggi quello dell'inizio della carriera accademica estremamente competitivo che chiede un impegno che chiede un impegno notevole una disponibilità a muoversi che non si hanno E lei professoressa Manucci? Io volevo anche io fare un commento su questo che qualche volta ho visto appunto anche riguardo appunto le mie studentesse non c'è proprio la consapevolezza di questa cosa cioè il fatto di fare determinate scelte da parte delle ragazze sembra una cosa naturale quindi non la vedono quasi neanche come una rinuncia proprio perché non c'è quindi anche questa iniziativa viene proprio fuori dal fatto di anche dimostrare che c'è un percorso accademico sì infatti quindi qualche volta alle ragazze sembra naturale fare una scelta diversa da quella dei ragazzi perché magari così è così la vita è così la vita è così anche ci sono tanti condizionamenti da parte della famiglia da parte della società in generale che danno un po' per scontato tutti si aspettano che una ragazza faccia quel percorso e quindi l'atteggiamento è ma io non sono stata condizionata è stata la mia scelta libera ecco quindi però magari è qualcosa che è sedimentato dentro sì insomma almeno almeno affrontare il problema ecco sì poi è chiaro che ognuno fa le proprie scelte non è che poi ognuno è libero ovviamente però grazie anche a questo evento donne matematica magari riusciamo un po' a spronare a smuovere le studentesse a dire coraggio ce la potete fare noi crediamo in voi grazie mille professoresse rinnoviamo l'appuntamento allora il 7 marzo c'è l'inaugurazione poi la mostra dura fino al 23 marzo sì quindi avete tempo quasi un mese per visitarla ci sono magari ricordiamo che ci sono le visite esatto diciamo la mostra i pannelli sono in inglese ma sono previste delle visite guidate quindi anche sul sito c'è spiegato come fare per prenotare una visita questo in particolare per le scuole ma anche chi vuole vedere può prenotare la visita soprattutto fatte dagli studenti della laurea magistrale esatto quindi è bellissimo grazie mille ancora professoresse rinnoviamo l'appuntamento se volete il 7 marzo c'è l'inaugurazione se no ci sono le due giornate il 9 e il 16 marzo grazie mille grazie grazie a tutti grazie a voi